Scusami, a parte che uno che chiama il titolo del libro è il cane di Dio, perdonami però, eh. Oggi tra l'altro mi è arrivato pure a casa un libro che ho ordinato e che ho iniziato a leggere. Anche io sto leggendo un libro, sì. Questo qua. Tra l'altro, cosa? No, vai. Ma scusami, come si chiama? È di Diego Marani. Come si chiama? Lo faccio vedere? Eh, fallo vedere. Non ci credo. Ma cosa stai dicendo, zio? Ma l'hai visto? Il capitolo, quello che parte da pagina 50 è arrivato, è clamoroso. Sì, 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 ma è incredibile. Cioè, allora, ma all'inizio poi, cioè, ti fa riflettere comunque su certi temi. No, più che altro sì, 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 sì. Ma cazzo assurdo. Sì. Infatti, quando ho cominciato a leggere la trama, ho visto il rosso, ho detto, è lui. Però ho detto, vabbè, mi sembra veramente strano che... Eppure... Eppure... Ma zio, ma me lo dicevi, minchia non lo compravo. Eh, vabbè, però almeno lo possiamo leggere insieme. Che roba. Tra l'altro non è neanche impegnativo, è scritto grosso, guarda. Sì, 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 no, infatti, no, ma è proprio... Scorre veramente come sangue nelle vene. Aspetta un attimo, non è una collaborazione, va bene tutto, ma... Sì, certo, noi collaboriamo con un libro che si chiama Il cane di Dio. Certo, molto probabile, effettivamente. È molto facile che un brand funzioni in questo modo. Certo, grandissimi. È grande capacità di capire il marketing. Grazie a tutti, grazie a tutti.